George Clooney si lascia sfuggire interessanti rivelazioni sull'ex fidanzata Elisabetta Canalis eccom come ha replicato l'ex velina di striscia la notizia sono saltate fuori negli ultimi giorni alcune rivelazioni rilasciate qualche tempo fa da George Clooney sull'ex fidanzata Elisabetta Canalis Il famoso ed affascinante attore aveva rivelato che tra tutte le donne che ha avuto l'ex velina è quella che lo ha fatto ridere di più aveva detto che la gente non la conosce nel privato lui invece l'ha davvero conosciuta con ironia ha detto voi non sapete cosa mi faceva ha quindi raccontato che nel corso della sua vita è stata in assoluto la donna che lo ha fatto ridere e divertire di più di queste rivelazione se ne è parlato ieri sera nel corso della prima puntata di vite da copertina condotto da Elisabetta Canalis l'ex velina di striscia la notizia ha replicato ai complimenti dell'ex fidanzato dicendo che George Clooney è una persona molto divertente che adora fare gli scherzi Elisabetta Canalis ha raccontato che il noto divo di Hollywood faceva tanti gavettoni ai paparazzi ha detta sua un ricordo bello di quel periodo però è stato stressante il motivo ha spiegato che non è stato semplice per lei gestire la stampa internazionale ha poi concluso dicendo che quella storia le ha insegnato ad essere più paziente tra l'ex velina di striscia la notizia e l'attore la storia d'amore è giunta al capolinea ormai da molti anni entrambi la ricordano però con affetto in passato a verissimo la Canalis aveva detto che poteva solo parlare bene di George Clooney anche in quella occasione aveva detto di avere dei bei ricordi con lui grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti